Arte Arredi. Il mobile è stabile. Da oltre 40 anni, l'azienda occupa un posto di rilievo nel settore del mobile. Si occupa della vendita di arredamento di interni classico, arte povera, contemporaneo e moderno. Cucine componibili, camere da letto, camerette, salotti, pareti attrezzate, soggiorni, ingressi, centro materassi con sala prova, divani, poltrone, sedi e tavoli, complementi d'arredo. Arte Arredi. Seleziona i migliori marchi del settore, offrendo il giusto rapporto qualità-prezzo e promuovendo finanziamenti a tassi concorrenziali.